E' in forma, si dice è in forma. Il presidio della città in questa aula che è il luogo che l'ha visto protagonista della vita politica oltre qualche anno, tanti anni che l'ha anche dopo un'altra attraversando diversi luoghi. E' davanti a tutti il nostro affetto, la nostra stima, la nostra gratitudine per la tua parte. Beh, non intanto ringrazio molto Ivo per aver venitato a questo momento in cui viene consignato il sigillo e non mi nascondo l'emozione. Saluto tutti i presenti, adesso siete davvero tanti, prima di salutare il parco personalmente, sono in giro. In particolare voglio salutare i sindaci che mi hanno preceduto, avevo questo incarico, mi hanno preceduto e mi hanno anche, non c'è solo uno che mi ha preceduto, è anche uno che è stato dopo di me. E c'è il Settino Lottardo, Paolo Zaletta, Giustina Destro e Guido Montesi, non gli ho detti molti. Applausi. Grazie. Grazie.